Una sorta di cammino di Santiago dei parchi italiani, un percorso per visitarli tutti accompagnati dai volontari del CAI, il club alpino italiano. A ogni visita il timbro su una sorta di passaporto e un premio per chi li visita tutti in modalità turismo slow. L'iniziativa l'annuncia il ministro dell'ambiente Sergio Costa e nasce grazie al protocollo di intesa firmato con il CAI, un itinerario escursionistico che toccherà tutti i 25 parchi nazionali del nostro paese e avrà come spina dorsale l'attuale sentiero Italia CAI, spiega Costa, parlando di un'iniziativa che si ispira al cammino di Santiago per vivere in modo slow la natura con l'aiuto dei volontari. L'attuale sentiero Italia CAI lungo oltre 7.000 chilometri collega tutte le regioni italiane lungo la dorsale appenninica e l'arco alpino da Santa Teresa Gallura nel nord della Sardegna a Muggia in provincia di Trieste. Un itinerario che abbraccia tutto il paese attraverso le montagne che attualmente attraversa già 16 dei 25 parchi nazionali con 85 tappe su un totale di circa 400 comprese interamente o parzialmente all'interno dei loro confini. Al centro rottami di Cisterna di Latina finivano anche gli scarti dei roghi tossici appiccati nei campi rom delle province di Roma e Latina. Il sito è stato sequestrato in un'operazione che ha impegnato circa 200 agenti portando a 27 arresti tra le province di Roma e Latina. La struttura riceveva e gestiva illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non pericolosi provenienti da privati, società e imprese individuali privi di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. I materiali venivano spacciati per end of waste, cioè materia prima seconda ricavata dal trattamento di rifiuti. Oltre agli arresti, sequestrata l'azienda che nel 2019 ha fatturato oltre 25 milioni di euro, 23 autocari e conti correnti per un valore di ulteriori 17 milioni di euro. 2020, anno speciale della natura e della biodiversità. Così il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha definito quello complicato in corso. Con la pandemia il 2020 è diventato punto di svolta obbligato per il pianeta. Fondazione FICO vuole ricordarlo attraverso le voci di grandi protagonisti dell'impegno per la sostenibilità, promuovendo il forum Festival Digitale Biodiversità. Ritorno al futuro insieme alla FAO, alla campagna Spreco Zero e al Bologna Award, premio internazionale per la sostenibilità agroalimentare. Dallo scorso venerdì 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, fino al 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, saranno disponibili in rete 21 voci, 21 videomessaggi di Mario Tozzi, Luca Mercalli, Andrea Segre, Mario Gniola, Massimo Cirre, Antonio Cianciullo, Roberto Giovannini, Filippo Lamantia e altri ambasciatori di biodiversità che animeranno le pagine social di Fondazione FICO. A Colle Cirquete o in provincia di Rieti c'è un'agricoltura che non conosce stagioni né crisi marziana per DNA. La scelta Ferrari Pharma, impresa multifunzionale che accanto alla frutta biologica che poi trasforma in azienda, ha deciso di scommettere sull'agricoltura idroponica e di produrre senza terra pomodori, basilico e piccole insaladine da taglio. In due serre è una vertical farm, sterili più pulite di una sala operatoria, ermetiche e computerizzate uniche in Europa. L'idea di coltivare all'interno di un materiale molto simile ad una spugna, ricreando in serra specifici microclimi attraverso controllo di temperatura, umidità e luce, è nata durante una conferenza in cui si parlava di come coltivare su Marte, racconta la dire l'imprenditrice, ingegnere elettronica e astronautica Giorgia Pontetti, 43 anni, che a Carzoli, in provincia dell'Aquila, produce anche apparati speciali nel settore aereo, spazio e difesa con la G&A Engineering, due attività che nonostante la crisi causata dal Covid-19 non hanno mai spesso di produrre. Per di fatturato sì, nel senso che noi abbiamo avuto sospese tutte le parti di attività didattiche, perché le scuole ovviamente hanno chiuso e quindi a catena sono state annullate tutte le fattorie didattiche che avevamo pianificate fino a settembre e poi abbiamo avuto la cancellazione di tutte le prenotazioni nelle camere dell'agriturismo. Noi siamo la prima struttura del Lazio che ha avuto i cinque girasoli, che è una classifica nazionale per gli agriturismi, invece delle stelle degli hotel avevamo assegnato i girasoli e noi siamo una struttura a cinque girasoli, quindi abbiamo visto la cancellazione di tutte le prenotazioni, quindi in questo momento abbiamo una sola prenotazione che è arrivata oggi. Per tutte le notizie consultate il sito di re.it